Musica Chiudi il rubinetto, quando la videnti, la combina è molto rara, non si può spregare Mi pare che questa amministrazione si sia chiaramente espressa sulla non condivisione di risolvere il problema semplicemente inalzando i limiti Però, però, il limite fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è 100 Anche se a 31-32 io faccio l'ordinanza, però, e verso la salute, la tutela non è mai troppa Però, va anche detto, non faccio il tutologo, d'accordo, però le chiedo a chi ha titolo Quella che lei chiama diffidenza, io chiamo partecipazione, questa non è diffidenza, è partecipazione alle questioni ambientali No, io la chiamo diffidenza Ma mi faccia il piacere Monitoraggio, compensazione, signor sindaco, glielo chiedo pubblicamente Tutti i soldi della compensazione devono essere usati assolutamente per fare analisi continuamente Perché non possiamo assolutamente rischiare E non dico null'altro, c'era tanto da dire, però, do la parola a Divano Io non devo difendere nessuno, però, due sono i beni primari ai quali siamo tutti sensibili Riducendo la vita, come dire, a un concetto molto semplice, forse anche troppo materialista A salute e a sacchetti Io non ho capito, perché sono abituato sia a parlare, sia quando faccio domande ad avere un sì o un no Lei dice, assolutamente contraria alla deroga, però La Germania ha lo 0,05, l'Austria ne ha 30 Io non vedo il resto del mondo E questo è il resto del mondo Mi preoccupo ancora di più Perché il però diventa enorme Mentre Confindustria chiede la deroga Asm chiede la deroga Pitella sta zitta Lei ci mette sto però a mettere l'occupa Un attimo, andai no, mi fa parlare, sì I cittadini hanno diritto alla parola quando il primo cittadino Se il primo cittadino prevarica No, aspetta a parlare così Adesso mi fa parlare Ponte c'è Grazie Quindi c'è questo però che mi preoccupa Anche perché siamo abbastanza pezzi tutti alle dinamiche politiche di questa fantastica regione E quindi vorrei che lei chiedesse a Pitella questa risposta sul suo senso E che la pretendesse da Pitella Nello stesso tempo Proprio per essere sì, no Il resto, fino alla chiesa, viene dal diavolo Dicevo proprio Detto questo Il problema dei trialometani della deroga In questa regione Dove le compagnie petrolifere da vent'anni fanno il bello e il cattivo tempo Dove gli impresari della spazzatura, della monnezza fanno il bello e il cattivo tempo Dove abbiamo discariche più di una metropoli Quando siamo nemmeno un quartiere di Napoli Bene, in questa regione che sta in queste condizioni Qualsiasi ipotesi di deroga Anche di un trialometano in più Concedere questa deroga significa aprire la strada Di vera che ne parlano le altre Parla? Già nulla Vuoi sapere come la penso sinceramente io? Vuoi sapere come la penso? Vuoi sapere? E certo che stai parlando tu, vieni tu Sto parlando io, parlo io Ne ha parlato l'altro Perché Pitella sta zitto? Perché non dice sì o no? Perché non lo chiedete a Pitella? Perché non lo chiedete a Pitella? Perché di te sì però? Perché di te sì però? Questa città è venuta qui oggi per avere un sì E averlo dalla regione Vi dovete imporre? Siamo stati di questi palletti E finisco qua il mio discorso Fate i segni Fate i segni Un vice sindaco che dipende un Pitella Non la propria città ma stiamo scherzando All'inizio del dibattito ho chiesto a tutti se volevano intervenire Ma che ti metti ad urlare così Non ha nessun senso in più a lui Non ha nessun senso Vieni qua e parla Ma tu hai capito che noi abbiamo un compito? Che è quello di rassicurare le persone Vedrà, vedrà E quando comincia la vera comunicazione Su chi vuol dare tranquillità Ma tu hai capito che noi abbiamo un compito? Che è quello di rassicurare le persone Chiudi il rubinetto Quando la videnti La conviene molto rara Non si può stregare Ma tu hai capito che noi abbiamo un compito? Che è quello di rassicurare le persone Ie Iesu Domine